Sono bravissima con le lingue, ma oggi vi stupirò con l'accento della mia terra, l'Abruzzo. Solo 24 ragazze ancora in gara per la Corona de Miss Italia. Se contenderanno io titolo per il programma condotto da Simona Ventura. La Giuria de Miss Italia 2014, aspetta che è l'ora che lo leggo notti. Sarà composta da Marco Bellinelli, Amy Schilla, Sandro Meyer, Alessandro Preziosi e la bellissima Lena Seredova.